Sabato 9 giugno in primo piano nella TGL News la volontà della Giunta Comunale di Piacenza di intensificare controlli e ispezioni all'interno degli asili per evitare i nuovi casi di violenza dopo quelli purtroppo verificati nei mesi e negli anni scorsi nella nostra città e dunque ci sarà una task force messa in campo e il Comune valuta anche un nuovo protocollo proprio per intensificare queste verifiche parliamo poi di bambini che invece vengono aiutati è quello che fa Paola Scanielli, la piacentina che per l'impegno proprio verso i bambini albini in Tanzania riceverà il premio cittadino europeo 2018 dunque un orgoglio per lei ma anche per la nostra comunità parliamo poi di quanto è accaduto ieri in via Santa Franca sequestrata, legata e imbavagliata 72 anni rapinata in casa e è accaduto in città in via Santa Franca dicevamo il tutto per un bottino di pochi euro ma attimi davvero di terrore indagano i carabinieri su questo gravissimo episodio ci lasciamo poi con alcuni appuntamenti molto importanti il primo che inciderà soprattutto sulla viabilità speriamo non sull'ordine pubblico vale a dire la manifestazione antirazzista organizzata dai Sicobas si parte dalla stazione, si arriva al Donmen passando sullo Stradone Farnese all'inizio è previsto per le 15.30, la fine attorno alle 19 e dunque attenzione in particolare agli automobilisti che devono percorrere le zone adiacenti allo Stradone Farnese questa sera parte a Campremoldo anche il Valtidone Festival con Mirabassi e Zanchini appuntamento alle 21.15 infine per lo sport la Becchieri oggi nella serata di oggi è impegnata nelle Final Four per ottenere la promozione in Serie A2 di basket si parte con Cassino, una vittoria significherebbe promozione tutto questo e molto altro sul nostro sito riberta.it e nel TGL delle 13.15 a presto